Di spedizioni ne ho già parlato in tanti altri miei video, ma come risparmiare tempo e soprattutto soldi, te lo svelo proprio ora. Bentornati su Subri Channel risparmiatori, oggi è quel momento in cui parliamo di come risparmiare tempo e soldi nel momento della logistica, quindi quando dobbiamo spedire un pacchetto al nostro cliente. Si sa che chiunque venda online o comunque si occupi di un business online e ha anche la parte di logistica è sempre districato tra mille offerti dei corrieri piuttosto che della posta oppure di chiunque faccia spedizioni. Il corriere deve essere affidabile perché il pacchetto deve arrivare in orario ma deve anche arrivare intero e soprattutto non ci devono essere problemi dal momento in cui il pacchetto lascia la nostra azienda fino a quando non arriva nelle mani del cliente, ovviamente perché la cosa principale è la soddisfazione del cliente. Il cliente soddisfatto è un cliente che sicuramente ci farà un'ottima pubblicità a noi e alla nostra azienda, ma è anche un cliente che non ci darà problemi nel periodo più delicato che va proprio da quando il pacchetto lascia la nostra azienda, quindi si toglie dalle nostre responsabilità e viene affidato alla responsabilità del corriere fino a quando non arriva a casa del cliente. Vediamo quindi a livello nazionale come ci possiamo muovere tra posta e corrieri. SDA mette in campo tariffe vantaggiose con una vasta gamma di servizi accessori come Shop Refill che offre pacchetti standard a prezzi convenienti ed è pensata per le aziende che hanno l'esigenza di riassortire continuativamente il proprio negozio con spedizioni che contengono più colli. SDA è anche specializzata nel trasporto di vestiario con la formula espressa e inoltre un ottimo servizio è quello dell'andata e ritorno con un'unica lettera di vettura, quindi dovremo compilare una sola lettera di vettura per poter spedire un oggetto e ritirarne un altro al nostro cliente. Le tariffe di SDA per le spedizioni sul territorio italiano partono da circa 8 euro per un pacco da un chilo per arrivare a 19,50 per invia al massimo di 30 chili. Spedire un pacco che pesa tra i 10 e i 20 chili costa poco più di 15 euro. Bartolini può vantare una presenza storica sul territorio, inoltre può raggiungere tantissime località grazie a molte partnership, sia estere ad esempio con DPD, sia per Italia ad esempio con fattorini locali per zone disagiate che Bartolini stesso non potrebbe raggiungere. I prezzi non sono sempre omogenei e spesso variano da filiale a filiale. Questa è un po' una pecca, ma vediamolo nel dettaglio. L'azienda garantisce offerta ad hoc per qualsiasi tipo di consegna e servizi espressi per le diverse esigenze del cliente, come la formula Priority che assicura la consegna entro le 12 del giorno successivo al ritiro, o il servizio 10,30 che recapita il pacco nella prima fascia mattutina. Scegliendo di affidare la propria spedizione a Bartolini, la spesa varia da circa 10 euro per un pacco del peso massimo di un chilo, ai 27 necessari per inviarne uno massimo di 30 chili. Il costo di una spedizione entro i 20 chili arriva a 25 euro, mentre se il peso del nostro pacco non supera i 10 chili, il prezzo sarà circa di 16 euro. Per le spedizioni ingombranti, Bartolini ha diverse soluzioni, tra cui anche la possibilità di spedire bancali senza limiti di peso e di colli. GLS rappresenta un'ottima soluzione per spedire a livello nazionale, i prezzi sono medio-bassi e c'è anche la possibilità di utilizzare un'applicazione per rendere le spedizioni più smart e più veloci. Tra i vantaggi offerti da GLS ci sono la consegna di sabato e una formula pensata per l'e-commerce che prevede la possibilità di fissare con la sede che ha in capo la spedizione giorno e orario di riconsegna in caso di mancato recapito al primo tentativo. Sul fronte della sicurezza GLS è anche molto avanti, ad esempio c'è la possibilità di impostare un PIN tra venditore e cliente e il cliente dovrà digitarlo sul palmare dell'autista al momento del ritiro del pacco. Un'ottima soluzione per avere la prova di consegna inequivocabile. La spesa per un pacco entro i 20 chili oscilla tra i 15 e i 20 euro. Il sistema tariffario è strettamente connesso a due formule, una tantum oppure abbonamento. Poste italiane si sa che ha un servizio molto capillare, può raggiungere anche zone disagiate a basso costo, dove spesso invece i corrieri hanno un costo decisamente più elevato. Chi è stretto con il budget infatti può vedere diverse soluzioni. C'è ad esempio Post Delivery Standard, che consente di spedire pacchi sul territorio nazionale risparmiando grazie all'acquisto dei carnet di spedizione disponibili in diversi tagli. Per andare incontro alle necessità di contenere i costi poste italiane, offre inoltre una linea di scatole preaffrancate, le delivery box, convenienti soprattutto per gli acquisti multipli. Il costo di una spedizione standard sul territorio nazionale con poste italiane va dai 9 euro per un pacco del peso di 5 chili, ai 15 per spedizioni comprese tra i 10 e i 20 chili. C'è poi una tariffa intermedia con 11 euro, infatti è possibile spedire confezioni dai 5 ai 10 chili. Nexiv, come sappiamo recentemente acquisito da poste italiane, punta a diverse soluzioni sull'e-commerce, affidando soprattutto la propria merce a dei padroncini, ovviamente tenendo le tariffe medio-basse. Nexiv mette a disposizione un servizio premium che include nel prezzo la consegna su appuntamento e al piano, ma è anche disponibile un prodotto studiato per facilitare le operazioni di reso con il servizio Resi Easy. Infatti l'operazione può essere effettuata a domicilio o in uno dei punti di raccolta dedicati. Il prezzo base per la spedizione da un chilo in genere è intorno ai 4 euro, mentre se dobbiamo spedire un pacco di 10 chili arriviamo a 12 euro, mentre per un pacco da 20 chili ci aggiriamo intorno ai 14 euro. Per quanto riguarda le proposte dedicate a chi ha un e-commerce, le formule sono principalmente due. La prima è Sistema Economy, studiata per gli e-commerce che hanno esigenze di inviare merci non eccessivamente pesanti e di valore commerciale minimo. A loro Nexiv offre una tariffa unica per spedizioni fino a 2 chili con servizio di recapito certificato e tracciatura online completa. La seconda soluzione invece con cui Nexiv è presente sul mercato delle spedizioni di piccole dimensioni è Sistema Slim, specifico per pacchi che hanno dimensioni della cassetta della posta. Il servizio avviene senza l'obbligo di firma da parte del destinatario e l'avvenuta consegna viene notificata solo tramite mail. Ovviamente ci sono tanti altri corrieri come ad esempio TNT, UPS, DHL, ma in genere hanno costi decisamente più elevati e magari anche servizi migliori, ma ovviamente non fanno per tutti, soprattutto per coloro che vogliono contenere i costi. Ma comunque, come dico sempre io, ricordatevelo bene, il corriere perfetto non esiste. Perché? Perché siamo esseri umani e anche i corrieri sono esseri umani, quindi dipenderà molto dalla zona. Ci sarà in certe zone il corriere perfetto che non sbaglia un colpo, consegna sempre il pacchetto in orario, soprattutto se c'è un cliente che non si fa trovare in casa, chiamerà mille volte prima di riportare il pacchetto in sede, mentre ci sarà il corriere che è di corsa, non chiama il cliente e ovviamente il nostro servizio avrà un rallentamento. Però, come dico sempre io, bisogna trovare il corriere perfetto per noi. E queste erano alcune delle soluzioni. Ovviamente, se avete altri tipi di suggerimenti da dare a me e a tutta la community, scriveteli qua sotto nei commenti. Sicuramente saranno utili a tutti. Ehi, il video non è finito qua. Quei lati troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da YouTube, mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione. Non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network. Il prossimo appuntamento, venerdì alle 14.